E già siamo arrivati all'ultima puntata della mitica saga relativa al vivere di musica propria e mancano pochissime ore ci sono ancora pochissime ore che ti separano dal poter agguantare il sistema scuola suono per vivere di musica propria. Devo dire che in questo sistema io non me l'aspettavo quando hai delle conoscenze ce le hai un po' confuse in testa quando ti servono saltano fuori schematizzarle metterle tutte su uno schema facile da capire e da leggere è stata una notevole impresa tant'è che non sono neanche riuscito ad integrare proprio tutto quello che è possibile integrare nel senso che ci sono talmente tante cose tante esperienze tante piccole strategie e trucchi che ho imparato sul web in questi ultimi anni che racchiuderle tutte in un unico schema è stato molto molto difficile sono riuscito però a creare un'ottima sintesi che ti darà veramente la possibilità di far decollare la tua attività musicale e ti darà una vera reale marcia in più per raggiungere i traguardi musicali e personali che ti sei posto quindi vado veramente molto fiero ed orgoglioso del lavoro che è stato fatto anche assieme a te anche assieme ai suggerimenti e le email che mi sono arrivate anche alle alle proposte sul blog devo dire sono contento che la maratona sia finita perché è stata abbastanza stancante soprattutto negli ultimi giorni nei quali mi sono concentrato nella realizzazione di questo schema ma soprattutto la cosa interessante è che a cavallo rispetto alla creazione di questo schema mi sono venute davvero tantissime idee su degli omaggi su dei bonus su delle lezioni integrative su dei video integrativi che ti aiutano non solamente ad avere la visione globale come come ti aiuta effettivamente ad avere lo schema principale del sistema scuola suono per vivere di musica propria ma ho progettato delle risorse delle lezioni se vogliamo delle lezioni audio e video che ti aiutano davvero a scendere in profondità anche tecnicamente anche nei dettagli tecnici sulla realizzazione del tuo sito su come come organizzare la comunicazione e altri bonus aggiuntivi come ad esempio il discorso della creazione di una band come come secondo il mio punto di vista rispetto a quella che è stata la mia esperienza musicale e anche commerciale quali devono essere gli obiettivi e le direzioni da seguire durante la costruzione la costruzione sì della della band dei tuoi sogni e alcuni dettagli ed alcune precisazioni per finire in bellezza tu sai che durante tutte le prime puntate anche fino a poche puntate fa la mia idea principale era quella di scegliere una band per creare un caso studio attualmente questo progetto non dico che sia stato abbandonato ma è stato temporaneamente congelato perché non sono riuscito ad individuare quella band quel tipo di band che avevo in mente per l'esperimento ci sono c'è da dire che ci sono veramente delle ottime proposte mi sono arrivate anche via email qualcuno mi ha risposto via email qualcuno ha postato dei video sul blog intanto ringrazio tutti quanti per aver partecipato non è stato vano nel senso che io mi sono intanto mi ha dato tutto ciò mi ha dato modo di capire esattamente quello che avevo in mente perché l'idea sarebbe stata bella quella di realizzare di prendere una band e sulla base della costruzione del successo di quella band creare un caso studio da far vedere anche agli altri non dico che non sia una cosa che non si possa fare nel prossimissimo futuro ma tra le band che le proposte artistiche che ho ricevuto non sono riuscito ad identificare proprio l'esatto concorrente ideale sarà sarà per la prossima volta insomma grazie davvero per aver partecipato e comunque tengo tengo presente potrebbe essere che a seguito dell'uscita del sistema scuola suono per vivere di musica propria qualcosa cambi magari le band che avevo selezionato insomma sulle quali mi ero già orientato facciano degli ulteriori passi avanti si mettano ulteriormente in gioco allora a quel punto veramente meriterebbe creare il caso studio un'altra precisazione che in realtà è una risposta ad una domanda che mi è arrivata via email da una ragazza un'amica di scuolasuono.it la quale mi ha chiesto senti io devo molto probabilmente devo trasferirmi devo andare via dall'Italia il sistema scuola suono per vivere di musica propria funziona anche all'estero o è una questione unicamente italiana ebbene cara amica io ti dico che in realtà in Italia è più difficile far leva su questi concetti perché il web è utilizzato di meno dagli italiani se tu ti sposti in Inghilterra o comunque se ti rivolgi ad un mercato globale di lingua inglese avrai senz'altro molte molte più potenzialità e possibilità di carriera di successo ovviamente scegliendo dei percorsi alternativi o in parte simili a quelli che sono descritti all'interno del sistema scuola suono per vivere di musica propria che è stato ideato e progettato proprio per un mercato italiano comunque tieni presente che al massimo la strada tua sarà in discesa non in salita rispondo anche ad altre due domande interessanti ricevute sempre via email a questo punto mi viene il dubbio che il mio blog sia effettivamente difficile da troppo difficile da utilizzare ma insomma sbagliando si impara vedremo di migliorare nel prossimo futuro comunque le domande che mi sono arrivate sono queste quanto tempo è necessario per utilizzare il sistema scuola suono ed ottenere dei risultati allora i tempi si riducono all'osso non è pensabile metterci le mani sopra domani e dopo domani essere già famosi non è neanche pensabile che questo sia l'unico sistema per diventare una rock star a livello planetario casomai questo qua è una leva è un volano per partire dopodiché ti troverai avvantaggiato nel mondo musicale oppure potrai utilizzare il sistema scuola suono per creare diciamo degli introiti fissi nelle tue casse nelle casse della tua famiglia che ti permetteranno anche di vivere e di vivere anche in maniera agiata tutto questo si svilupperà nel giro di io prevedo se ti ci metti con costanza con impegno anche se in realtà stiamo per aprire questo sistema quindi non ho dei casi studio per l'appunto sui quali fondarmi per una previsione però a spanne ritengo che nel giro di qualche settimana avrai già un'infrastruttura web adeguata ed all'altezza della situazione da lì in poi potrai costruire potrai costruire contenuti materiale trovare nuovi fans invitare nuovi fans a farti conoscere ai loro amici seguendo tutte le tecniche e le strategie comprese all'interno di questo metodo e perciò mi viene da pensare che nel giro di un mese, due mesi, tre mesi qualche mese insomma la tua attività musicale già sarà decollata è molto utile secondo me è un'ottima coincidenza il fatto che il sistema scuola suono venga aperto proprio in questo preciso momento perché siamo a ridosso dell'estate e durante l'estate si suona di più quindi se avrai delle date durante l'estate arriverai già pronto al periodo estivo con l'infrastruttura web sulla quale potrai fare leva anche durante i concerti anche durante le date reali nei pub, nei locali, nelle sagre come lo scoprirai all'interno del sistema scuola suono c'è tutto un ragionamento adeguatamente raffinato che ti permetterà di sfruttare al massimo gli eventi ai quali parteciperai anche se non vieni retribuito quindi in realtà per te sarà un guadagno comunque sulla base di tutte queste riflessioni mi viene da dire che nel giro di qualche mese se ti ci applichi sicuramente otterrai degli ottimi risultati l'ultima domanda a cui mi sento in questo momento di dover assolutamente dare una risposta tutte le altre risposte alle domande che mi sono arrivate le troverete all'interno del sistema scuola suono per vivere di musica propria è a quale genere si adatta il tuo sistema al tuo metodo per vivere di musica propria? allora se tu hai seguito i video precedenti sai già che per una questione soprattutto del mio background culturale musicale ho sempre spinto nel ricercare band o artisti tra virgolette passatemi il termine, normali cioè di musica leggera, di musica commerciale di musica alla quale io sono abituato proprio perché pensavo che in realtà avrei potuto indirizzare meglio queste band in realtà durante la costruzione vera e propria del metodo mi sono reso conto che non solo è applicabile a qualsiasi genere musicale a qualsiasi situazione musicale dal rap al pop al rock al funky alla musica classica al jazz al metal estremo in qualsiasi situazione tu puoi utilizzare queste strategie e questi consigli non solo c'è anche una pittrice che mi segue in questa avventura e che anche lei non vede l'ora di mettere le mani sul sistema scuola suono per vivere di musica propria nonostante sia stato pensato per i musicisti e nonostante ovviamente durante tutto il metodo si parlerà di musica le strategie sono le medesime da utilizzare in qualsiasi ambito artistico quindi se hai una compagnia teatrale se fai un musical se sei una pittrice, un fotografo in realtà il sistema scuola suono per vivere di musica propria si adatta anche alla tua esperienza perché in realtà non si tratta che di un insieme di strategie e di marketing e di tecniche anche web diciamo per quanto riguarda proprio l'infrastruttura web da condensate e da applicare al mondo della musica se tu queste tecniche condensate le applichi al mondo della pittura va bene uguale i principi sono lo stesso ovviamente il mio background è quello musicale nasco come musicista proseguo come tecnico del suono divento imprenditore sul web condenso tutte queste informazioni in un metodo dedicato ai musicisti per la loro realizzazione personale insomma in queste ore più che del sistema scuola suono per vivere di musica propria sono vado particolarmente orgoglioso per tutto quello che è la fase successiva diciamo il bonus il percorso subito successivo dei primi 30 giorni dopo che avrai messo le mani sul sistema scuola suono per vivere di musica propria con questo comunicato niente ti saluto chiudiamo qua quella che è stata il percorso degli ultimi tempi il percorso la maratona relativa al vivere di musica propria perché veramente da domani dal momento in cui si apriranno le porte mi auguro che la tua vita musicale possa davvero cambiare che dire un saluto grazie a tutti quelli che mi hanno seguito tutti quelli che hanno scommesso su di me tutti quelli che domani scommetteranno su di me al momento dell'apertura ricordo che attualmente in questo momento ci sono delle condizioni non lo so mi sono un po' sbilanciato sulle condizioni economiche diciamoci la verità nel senso che è un salto nel buio per me però proprio l'ho fatto proprio nella speranza di poterti dimostrare il mio affetto e la mia riconoscenza per avermi dato supporto fino a questo momento ti ricordo che le condizioni economiche con il quale è possibile raggiungere il sistema scuola suono per vivere di musica propria e tutti i bonus e tutti gli omaggi successivi che vanno ad integrare ad integrarsi perfettamente all'interno dello schema globale rimarranno così ancora per poco ci sentiamo domani per l'apertura ufficiale delle porte un saluto da francesco nano grazie ancora del supporto ci sentiamo presto con nuovi progetti e sicuramente all'interno del sistema scuola suono per vivere di musica propria ciao grazie a tutti ciao grazie a tutti